Riccardo Montolivo che è con la nazionale italiana, Riccardo Cacà dunque prende e fa sua la zambrotta, c'è tanta tanta attesa proprio per questa prima uscita di Riccardo Cacà, questa nuova prima uscita con la maglia del Milan. Quindi Cacà, Emanuelson, ancora Riccardo Cacà si abbassa molto, scambio dietro la difesa, si inserisce bene Noccellino, Noccellino la conclusione, la palla che resta lì e poi entra in porta. Arriva il gol di Antonio Noccellino, il primo della gara, l'assist è di Riccardo Cacà. Subito si abbracciano i due, bella questa immagine, molto molto bella. Rivediamo, lancio lungo alle spalle di Zambrotta, l'inserimento di Antonio Nocerino, il tiro per un attimo. Chiude l'1-2, recupera Montari, ancora per Cacà, al limite dell'area Cacà prova la progressione, Cacà la palla dentro, bella per Zaccardo in mezzo. Poi viene chiuso da Zambrotta, questo cross di Zaccardo, ma bella ancora la... Vero, d'area di rigore da parte di Alessandro Matri, ora la palla che resta lì, Cacà la splendida apertura per Robigno, Robigno in area, Robigno la chiusura. Messa dentro da Antonio Nocerino, Montari, Montari per Cacà, limite dell'area Cacà, la conclusione di Cacà. Viene sporcata e termina in calcio d'angolo. Ancora Cacà rendersi per il Cologno, Antonio Nocerino. Matri ha cercato la conclusione e la girata verso la porta di Cappelletti nel 3-0 Milan al 39esimo.